Sapete, l'ultima cosa ad uscire dal vaso di Pandora è stata la speranza. Dopo i lutti e le guerre, io non ci credevo. E invece adesso sono più contenta di tutti. Ora tocca a mia sorella dirvi una cosa. Vieni. Come diciamo a casa nostra, i sogni sopravvivono alle persone. Grazie. Brave, brave piccolniere. Brave. Brave, brave gioiuzze. Ti amo. Amo la mia nuova famiglia. Amo le tue bambine. Amo tutto di te. Andiamo. Grazie.